Dopo il violento nubifraggio di ieri, anche Ardea fa la conta dei danni. Il soffitto di un supermercato a Nuova Florida è letteralmente crollato, mettendo in fuga i dipendenti. Durante la loro corsa l'acqua ha continuato ad entrare nella struttura facendo temere il peggio. Fortunatamente all'interno non c'erano clienti e nessuno è rimasto ferito. Intanto la protezione civile a Irone ha effettuato diversi interventi di messa in sicurezza in tutto il territorio per allagamenti e alberi crollati. Le situazioni più critiche si sono registrate in via Pratica di Mare e in via Forlì, dove due arbusti sono caduti impedendo temporaneamente il passaggio delle auto. In via Nuoro invece una macchina è rimasta danneggiata dal crollo di alcuni rami. Infine i cittadini segnalano che diverse abitazioni sono rimaste per ore senza corrente elettrica, con tutti i disagi che ciò può comportare.